partaglio rossoniere amici rivali di youtube buongiorno 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 e buon giovedì a tutti amici bene figli miei allora 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 una cosa volevo dire prima di iniziare scusatevi per ieri se poi il pomeriggio sono dovuto andare via con mia figlia e non non ho più fatto un cazzo con la sisal c'è ancora lì il contratto di valeriani che saluto che ringrazio che subito si è iscritto parlo con i blogger anche datemi una mano con la sisal per piacere basta mi mandate il documento ci avete 15 euro di bonus per giocare poi potete anche lasciarla lì però comunque mi servono a me i numeri perché più numeri faccio più comunque sia mi sale il mi sale il budget praticamente quindi vi invito adesso vi lascio il link della sisal se mi mandate i documenti a me su instagram e vi lascio anche in descrizione instagram naturalmente avete 15 euro se no se vi scrivete e basta al mio sito senza mandarmi documenti magari per prova se non li volete mandare mi serve carta d'identità fronte e retro e numero di telefono che poi vi chiamerò io perché vi deve arrivare un codice e naturalmente è l'email questo serve ok se lo volete fare da soli cliccate ve lo lascio nei messaggi perché non possono rischiare di mettere in descrizione sotto le maglie di che calcio c'è sisal c'è il mio sito andate lì e vedete di farmi l'iscrizione se mi grazie detto questo poi con i documenti che mette mandato permette mandati veramente in tanti già ci vuole tempo per imparare bene a farli comunque non è anche mio aiutante quindi lo faremo in due poi detto questo detto questo cos'è che volevo dirvi a le magliette naturalmente di che calcio primo messaggio primo messaggio primo messaggio e maglie di che calcio mi raccomando magliette di che calcio primo messaggio primo messaggio sulla tensione più comprate più loro vi danno rivendetevi le magliette che vi regalano se ne prendesse spente 160 euro l'investimento perché poi potete vendere anche qualche mamma luco magari la maglietta 40 45 euro per dire indi per cui fate il vostro gioco detto questo signori miei detto questo allora ci sono dei dei nuovi prospetti inizio subito a dirvi che gli ovici io non lo voglio è stato accostato al milano penso che sia una cazzata ma gli ovvi c'è anche no gli ovvicini mai esploso non è esploso la fiorentina figuriamoci se non esplosere al madrid che una grande squadra non è esploso la fiorentina c'è una squadra di metà classifica figuriamoci si esplose al milano c'è un esploso tutti questi anni qua vuol dire che non è tutto questo fenomeno che dicono sinceramente io davanti voglio altro vogliono come morata davanti uno come cari se vogliamo se non vogliamo prendere a spendere tutti i sei gran soldi anche perché cardi per me non costranno anche tanto pure murata e cardi insieme anche se cardi ma non è simpatico su amore per prima però ragazzi passare dai ovvi c'è cardi morata insomma c'è un bel pezzo di strada da fare secondo mio punto di vista endi per cui endi per cui vi dico che davanti continuiamo sulle piste dove stanno lavorando è meglio poi a centrocampo dobbiamo prendere un altro centrocampista c'è questo quadri valenza che ha vissuto anche dieci anni in vento di man parlato addirittura l'altro giorno con i veneti che ha abitato qua si chiama iu siu siu qualcosa proprio metto qua nel ragazzo di colore di vent'anni mi dicono che vedo che anche passaporto italiano perché ha vissuto dieci anni qua in veneto alcuni dei miei ragazzi mi hanno detto che avevano visto giocare che è fortissimo è un bel toro centrocampo ci serve un altro centrocampista di livello da metterci di fianco comunque all'oftus per forza ci serve un centrocampista di livello indi per cui assolutamente assolutamente arrivo dai su un video bisogna assolutamente assolutamente prende un centrocampista ma di livello perché benasserti rientra quando a natale forse un po prima comunque stata lunga per benasserti ha avuto un infortunio della madonna non sa neanche come rientra come non rientra quindi per cui ragazzi non andiamo di muoverci andiamo di muoverci come stiamo facendo stiamo lavorando bene sicuramente per me arriverà anche l'altro del celsi pulisic per me arriverà camada alla fine e camada è da prendere assolutamente perché a zero e poi a destra c'è questo traurè c'è questo traurè qua l'ho visto qua un paio di partite è un toro della madonna perché è un grandissimo toro della madonna è proprio un toro è proprio forte è proprio è veloce salta l'uomo punta l'uomo va sempre sul fondo cosa che piace a me non si va a mettere questi cazzo di cross quando non sanno cosa fare ad altri quarti proprio uno che punta sempre e salta l'uomo ecco noi se prendiamo un attaccante più che come cardi uno come traurè a noi ci potrebbe fare il caso nostro perché cardi è uno che sui traversoni soprattutto dal dal fondo veramente una bestia in erbe di rigore è fortissimo è veramente forte quindi per cui sinceramente dobbiamo andare comunque una formazione con davanti al centrocampo in su con 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 tre centrocampisti con vabbè l'optio sarei toccabile magari come questo ragazzo qua che era di vero ora io vedo 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 una squadra che l'anno prossimo secondo me la squadra è innanzitutto giovanissima ancora giovane perché a parte l'optus è 27 anni e l'altro anche traurè è giovane poi bisogna dire che questi qua sono tutti nomi sono tutti nomi che si fanno però di certo ora c'è soltanto l'optus che ha sostituito tonale e probabilmente pulisici che vuole venire al milano poi ancora il resto tutto fermo ci sono tante trattative per fortuna noi dietro siamo a posto perché noi dietro comunque siamo a posto dietro se non possiamo neanche ballo ballo tourè che ricopre il ruolo di essere unitario non può essere ceduto perché due anni non può essere ceduto non ho capito che cosa cazzo è però se soltanto che io c'ho buone io c'ho buone speranze per questo mercato qua sinceramente perché la mossa di vendere Sandro Tonali anche se di cuore è stata è stata drammatica se devo se devo andare comunque sia a recuperare 80 milioni che per me Sandro non ne valeva ancora 80 ne valeva massimo 50 e avere un gruzzo della società più le altre vendite che dobbiamo fare tra cui Decatler fra cui Edricol che dire su un bel gruzzo se vuoi mai si salta farà fuori magari che noi non sappiamo neanche magari un gran cazzo di nome davanti non lo so vedremo ma tu sai che adesso i soldi ci sono la società comunque si sta muovendo io con Moncada comunque sia ho io ho fiducia sinceramente questo è arrivato al Sant'Angarola ancora leggere la sua storia cioè è un ragazzo che era in gamba già conosceva a 19 anni c'era già su scouting si pagava i viaggi da solo per andare vedere i giocatori cioè se pensiamo che sia un deficiente vi assicuro che un deficiente non lo è ve lo dico subito che un deficiente non lo è naturalmente non c'ha non c'ha la come si dice non c'ha la storia di Paolo Maldini come calciatore e come uno come Paolo Maldini che magari ti può convincere comunque prima a prendere un giocatore perché se va Moncada è un discorso se va Maldini un altro però il due denaro è quello che fa la differenza cioè perché Maldini senza soldi poteva andare dove voleva però c'è anche da dire che Maldini ragazzi è stato da stringere la mano e farli così grazie per averci riportato Ibra fra l'altro poi vediamo se un ritorno di Ibra magari potrebbe essere di vital importanza vediamo un po' cosa succederà bene detto questo ragazzi vi mando un bacio vi mando un abbraccio ciao a tutti fate i bravi ci vediamo dopo il live mi raccomando sisal secondo messaggio insomma da pressione andate lì se volete scrivermi su Instagram trovate in descrizione è meglio parlate con me direttamente mi mandate i documenti ok avete 15 euro di bonus se venite da me se andate a scrivervi da soli che non vede a scrivere i documenti mi fate felice lo stesso comunque mandatemi lo stesso messaggio su Instagram e mi dite mi sono iscritto Ale boom 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 ciao ragazzi